Allora, quanti amici avete su Facebook? Allora, Facebook ce l'ho, me l'hanno fatto, però non ce vado perché c'era Bevi l'acqua che mi tartassa di mail È vero perché io prima avete visto che ho detto che non ho Facebook, non sono mai andata Me l'hanno fatto, ma non è vero, ma te lo sei fatto da solo Ci ha messo le foto quelle del book sull'avatar Cos'è l'avatar? L'ha chiamato lui avatar L'avatar è un virus Tu hai l'avatar? Stavo scherzando Io so che Primo Reggiani chatta con le sue ammiratrici su Facebook Cioè sono testimone di questo Mi ha chattato anche la notte No, la mia potenza Ma vedi Che cosa? No, io non so manco che vuol di chat Ah, questa, mamma mia, ma perché? Possiamo terminare o eliminare Primo Reggiani da questa intervista? Perché veramente mi sembra vergognoso Absolutamente... Con una falsità Ma perché a me sembra... Guardi su internet Sì, è verità, sì Dove? In quale social network? Space, un book Facebook No, 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 c'ho proprio Primo Reggiani Uno col pallino Sì, ma non è che... Sì, ce l'ho Secondo me hanno mandato delle foto nude No, l'ho fatto un sacco di tempo fa perché mi hanno detto è come MySpace Convinto che servisse fosse utile, in realtà ho scoperto poi che non è né utile, non serve Serve solamente a stare chiusi dentro casa Ricordate che siamo qui a fare la promozione di Faceboom che è un film proprio su Facebook Perché questo è Faceboom, non è Facebook Sì, per ovvi motivi di diritti, non hai capito ancora? Perché il film è bello! Ma che c'entra? A me il film è un capolavoro, ma lo è proprio per questo Lo è proprio perché, re, ma contro questi networks Eh? Un special network, come è che cosa si chiama? Social networks Social networks Io con l'inglese ho mastico, eh Con l'inglese ho mastico proprio, con l'inglese ho mastico Io ti aspetta Ma a me, ma Fantastico, ok, vabbè Allora, non ho mai provato a rimorchiare i suoi Non ho capito perché a Daniele non gli si chiede questa domanda Perché non fa di stare Rimorchiare Ma hanno mandato delle mail con dei complimenti Non si dice delle mail Non si dice delle mail, come si dice? Dei messaggi su Facebook con dei complimenti No, non in bacheca Complimenti, vabbè, basta Ai complimenti posso andare via No, dai A te, clan? Io ho un sacco Un sacco di ammiratori Almeno 20 volte al giorno Mi arrivano messaggi, un continuo Infatti andrò via Cioè, oppure farò uno privato con Primo Leggiani Ah, ok Cioè, una chat Perché è single va bene? Esatto Perché è single? Bene, grazie Fate un saluto adesso Starlit Ah, Starlite Starlit Ciao Starlit Ciao Starlit Stacci bene